Se ti piace lo stile grafico di Caped, allora questo è il titolo che fa per te. Sto parlando di Maus, sparatutto in soggettiva, firmato Fumi Games. Ed eccoci nei panni di John Mauston. Il nostro auditore dovrà tuffarsi in uno scenario a base di delinquenti e corruzione, sebbene non sia chiaro se vi sia alla base dell'intreccio narrativo un caso da risolvere o più semplicemente una banda di criminali da mandare dietro le sbarre. Ad essere certi però è invece il fatto che Maus sia un'avventura completamente single player. Per quello che riguarda il gameplay, ci troviamo di fronte ad uno sparatutto con visuale in prima persona appartenente alla vecchia scuola. Dice sì anche boomer shooter, sebbene non sembri rinunciare a qualche aggiunta rispetto agli shooter classici come Doom. Detto ciò, che ve ne pare di Maus?